Anch'io sono sconvolto, anch'io sono forse incazzato questa mattina, le dico la verità. Non capisco però perché debba diventare subito politica questa cosa, perché dobbiamo correre a fare non il selfie ma quasi con i casi di cronaca che poi in qualche modo toccano dei nervi sensibili. Vai Federico. Beh intanto non vedo la politica, vedo dei leader politici che hanno commentato un fatto gravissimo, mi sembra in modo assolutamente di buonsenso. Mi sembra che Matteo Salvini abbia detto niente che non sia condivisibile, mi auguro, dal 99,9% delle popolazioni in questo paese. E' chiaro che dopo esistono dei svolti politici, non ovviamente sul fatto specifico che è drammatico e spero, come ha ricordato anche Salvini, che le persone vengano punite. Ma perché per esempio la politica fa determinate scelte e quando noi diciamo che dei delinquenti devono essere puniti, poi si confrontano magari con delle leggi approvate da una maggioranza in Parlamento, dove per esempio ci sono sconti di pena, lo svuota carceri, uscite facili. Ed è chiaro che quello, è ovvio che dopo quindi esiste una risposta politica da dare, dal nostro punto di vista è quella della fermezza, della certezza della pena e che fatti del genere vengano puniti senza alcun tipo di sconto. Ripeto, i commenti mi sembrano assolutamente lontani dalla polemica politica. È chiaro che successivamente delle riflessioni sulle conseguenze che ci sono per i delinquenti che fanno fatti come questi, ma molti altri, ovviamente drammaticamente ce ne sono nel Paese, debbono trovare una risposta politica. C'è chi crede che la risposta al sovraffollamento carcerario sia stata quella e sia legittima di alleggerire le pene e scarcerare o dare misure alternative, noi invece crediamo che se uno commette dei reati, soprattutto per i gravi, debba rimanere nelle patrie galere.